È morto all'improvviso a causa di un malore che l'ha colpito nel bagno della sua abitazione a Venezia. Si è spento così, a soli 44 anni, Nicola Tonon, informatico originario di Pieve di Soligo, molto noto nel capoluogo lagunare dove lavorava per il Global Campus of Human Rights. Ed è proprio il centro interdisciplinare di eccellenza sostenuto dall'Unione Europea a darne notizia questa mattina nella pagina Facebook. Nicola lavorava per il Global Campus da più di 15 anni ed ha lasciato un'impronta profonda alla nostra organizzazione sotto tanti aspetti. I nostri sentimenti in questo momento difficile vanno a tutti, i suoi cari si legge. E sono molti i messaggi di ricordo e cordoglio da parte di colleghi e studenti. Tononna si era laureato a Trieste e da oltre dieci anni si era trasferito a Venezia dove viveva con la compagna. Domenica pomeriggio alle 16 il 44enne sarà ricordato alla Scuola Grande di San Rocco durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Il funerale sarà celebrato martedì alle 10.30 nel Duomo di Pieve di Soligo.